Ben trovati e buona settimana a tutti da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal continua a fare molto caldo sulla nostra regione la settimana inizia con condizioni di cielo sereno poco nuvoloso salvo un po' di instabilità pomeridiana sui rilievi mercoledì leggero aumento della nuvolosità le temperature saranno in lieve diminuzione con graduale però aumento dell'umidità il dettaglio oggi lunedì 6 agosto sereno sulle zone costiere possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi agli estremi della regione dove non si escludono locali rovesci e temporali di calore venti deboli dai quadranti occidentali locali regimi di brezza mare poco mosso quasi calmo umidità su valori medio alti temperature massime in leggera diminuzione ma sempre elevate sopra la media stagionale le massime appunto lungo la costa tra 31 e 34 gradi nell'interno tra 32 e 34 gradi domani martedì 7 agosto sereno su tutta la regione nelle ore più calde possibili temporali sui rilievi appenninici di levante in serata addensamenti di nubi basse sul centro ponente venti in prevalenza deboli dai quadranti meridionali rinforzi dal pomeriggio sui capi esposti di ponente mare poco mosso umidità in aumento su valori alti temperature minime stazionarie lungo la costa tra 24 e 27 gradi nell'interno intorno 18 e 19 gradi massime in diminuzione lungo la costa tra 30 e 33 gradi nell'interno intorno 31 e 32 gradi dopo domani mercoledì 8 agosto cielo in prevalenza sereno al mattino sulle zone costiere locali addensamenti nei bassi strati per un flusso umido meridionale in particolare sul centro ponente in dissolvimento durante la giornata addensamenti pomeridiani sui rilievi di levante 20 e prevalente regime di brezza qualche rinforzo pomeridiano dai quadranti occidentali mare poco mosso umidità su valori alti temperature minime stazionarie lungo la costa tra 24 e 27 gradi nell'interno intorno 18 e 19 gradi massime in diminuzione lungo la costa tra 29 e 32 gradi nelle zone interne tra 30 e 31 gradi è tutto seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it sulla pagina facebook di arpal a risentirci www.arpal.gov.it www.arpal.gov.it www.arpal.gov.it